Il 16 marzo 2023 la Games Workshop ha annunciato sul sito ufficiale di Warhammer Community il nuovo modello di comando a Dante dei Blood Angels che è diventato Primaris. Qui però dobbiamo fare alcune considerazioni. Prima di tutto è che dovrebbe essere tutto dovuto a un leak perché in teoria un utente ha comprato dal sito GV un modello di Dante pensando appunto volendo ordinare quello vecchio classico in questo caso di Resina che ricordo è della seconda edizione praticamente il modello ed ecco che invece ha ricevuto quello nuovo ed è dato che è stato leakato ovviamente ha ricevuto per aver questo. Poi bisogna ricordare anche un'altra cosa la GV nei vari libri che sono stati rilasciati ultimamente per quanto riguarda la parte di Warhammer 40.000 per il background che sia il codex supplemento dei Space Marine Blood Angels che sia il libro per quanto riguarda Devastation of Bodies, Space Marine Conqueror, Stella Black Cribe che sia da tutte le altre parti ha fatto dire a Dante che lui non avrebbe fatto la transizione perché non poteva permetterselo quindi non doveva fare la transizione perché il peso che li gravava sulle spalle non permetteva di rischiare di poter fare la transizione a appunto diventare Primaris. Quindi che ci sia adesso questo modello spero che venga giustificato da BG perché altrimenti sarebbe un po' perché è stato fatto perché è taggi un po' fra quello uguale però è un po' problematico in questo caso comunque possiamo andare a vedere che il modello di per sé non ha fatto male anzi è qualcosa di meraviglioso l'unica cosa che mi piace è il fatto che sia su quella rocetta e con quel pirolino proprio di sostegno appena che non me lo fa apprezzare probabilmente lo rimuoverò perché non mi piace in quel modo lì ma se andiamo a vedere il modello di per sé possiamo notare alcune cose interessanti prima di tutto la parte per quanto riguarda le gambe perché sinceramente mi fanno venire in mente le gambe degli Stormcast e Tennis perché praticamente sono quelle cioè sono praticamente prese per quelle comunque a livello di dettaglio è fantastico l'equipaggiamento è praticamente quello che ha avuto soltanto rivalorizzato per quanto riguarda i Primaris ma è identico a quello che ha sempre avuto e se andiamo a vedere qualche dettaglio in più possiamo notare che alcune cose sono molto interessanti in particolare per quanto riguarda la parte dei jetpack quindi della torre dorsale perché è fantastico è praticamente quello degli Inseptors però con un leggermente riposizionato la parte della lette il dettaglio della voccetta è fantastico adoro come modello veramente meraviglioso la quantità di richiami appunto della simbologia dei Blood Angels è fantastica perché appunto c'è in diverse posizioni per quanto riguarda il modello è veramente fantastica la parte per quanto riguarda il volto è eccezionale perché se andiamo a vedere effettivamente devo ammettere mi mancherà un po' il modello vecchio come maschera perché ci sono affezionate ormai dopo anni e anni però effettivamente è giata molto bene quindi ci sta non mi dispiace affatto comunque il modello è fantastico ammetto che è qualcosa di eccezionale e qua possiamo dare anche la comparazione per quanto riguarda le dimensioni ma quando andate a vedere questo modello vi ricordo che non è così tanto più grande perché quello che fa la differenza vedendo questi due modelli affiancati è il fatto che il modello di Dante nuovo Primaris è su una roccia quindi è più rialzato ma se andiamo a vedere i posizionati a fianco a fianco non è altro che la differenza normale tra uno Space Marine classico e un Primaris quindi la differenza c'è, la dinamicità c'è, la differenza c'è tutto però non è così alta come potrebbe sembrare quindi dobbiamo tenere in considerazione anche questo comunque piace davvero tanto come modello e sono curioso di vedere tenete conto che il fatto che sia stato rilasciato questo punto leak probabilmente ha fatto rilasciare appunto questo modello per giustificare il fatto che sia stato poi appunto mandato a qualcuno e quindi far vedere che effettivamente esiste ma questo modello tecnicamente dai rumor che ci sono perché si parla solo di rumor dovrebbe essere stato fatto uscire assieme a tutti gli altri modelli di Brad Danes che sarebbe stato come rilascio con quello che viene dichiarata essere la decima edizione da rumor che dovrebbe uscire a giugno-luglio quindi estate comunque di quest'anno e sinceramente dato che sarà per i Brad Danes quasi sicuramente la prenderò perché ovviamente non vado a ignorare i modelli di Brad Danes però effettivamente questo sarebbe dovuto essere stato fatto uscire in quell'occasione lì è stato anticipato e sinceramente cominciò a non credere così tanto che sia effettivamente un errore perché se andiamo a vedere potrebbe essere tranquillamente un modo per testare la base, l'utenza, la parte della Game Soul Shop potrebbe essere questo tipo di modelli può essere apprezzato o magari anche semplicemente per dare un'introduzione e pian piano riuscire a qualcos'altro in anticipazione di quello che sarà l'uscita proprio per quanto riguarda la nuova edizione supposto che effettivamente i rumori si avverranno e venga rilasciato quindi sarà un po' da vedere un po' mi dispiace non aver più quello vecchio anche se il modello aveva bisogno assolutamente di un rifacimento perché ne aveva bisogno semplicemente quindi sarà da vedere effettivamente cosa ci sarà sono curioso di dare il background con cui giustificheranno tutto ciò perché appunto quello è quello che mi interessa e appunto sarà da vedere un po' il tutto ma voi cosa ne pensate? il modello vi piace? quasi sicuramente sì ma pensate che sia stato fatto bene questo passaggio questa anticipazione e volete vedere qualcos'altro pensate che effettivamente esca una nuova edizione a giugno-luglio parliamone eventualmente nei commenti